Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale con un nuovissimo video tutorial visto che molti di voi ragazzi me lo chiedono oggi vi andrò a dire come diventare supporto a un creatore su fortnite e di conseguenza avere la possibilità di fare i server privati appunto su fortnite vi dico subito ragazzi che non è niente di difficile appunto applicare questa cosa richiedere la cosa dei server privati quindi iniziamo subito senza perderci in chiacchiere intanto ovviamente vi dico i requisiti ovviamente vi rimetterò anche in schermata per appunto far richiesta per diventare supporto un creator ed avere server privati bisogna avere almeno 18 anni ragazzi questa cosa è molto importante bisognerà avere almeno mille follower sui social che vi ho appunto messo in grafica tra cui youtube twitch tik tok facebook twitter instagram comunque i social ovviamente più comuni che tutti noi utilizziamo ovviamente questa cosa è importante perché se non arriviamo al numero di almeno mille follower su uno di questi social ovviamente non possiamo fare richiesta perché comunque il requisito essenziale per avere i server privati altra cosa importante ovviamente è portare contenuti di fortnite nell'account dove appunto abbiamo almeno mille follower poiché sennò la epic games non potrà darci questa possibilità di diventare supporto a un creatore o avere server privati poiché appunto non portiamo contenuti che a loro interessano detto questo ragazzi passiamo alla parte pratica come bisogna fare per richiederli benissimo qua sotto in descrizione ragazzi vi lascio direttamente il link per fare la richiesta una volta che appunto cliccate su questo link prima di tutto ovviamente vi loggate con il vostro account fortnite e successivamente cliccate sul tasto fai richiesta ora una volta appunto aperto il link ragazzi e aver fatto anzi aver premuto scusate il tasto fai richiesta vi chiederà tutte le informazioni personali tra cui nome cognome indirizzo numero della carta eccetera 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 voi state tranquilli mettete tutto quello che vi richiede successivamente una volta fatto e inserito tutti i dati potete tranquillamente inviare la richiesta all'epic games la quale vi risponderà più o meno entro una settimanetta più o meno a me ha risposto dopo tre giorni comunque ovviamente dipende anche dalle richieste che gli arrivano e dalle richieste che comunque ci sono in quel periodo ragazzi una volta appunto che avete inviato e avete ricevuto la risposta sia positiva sia negativa lo vedrete appunto nelle mail perché comunque vi dirà che vi sarete stati accettati o meno se siete stati accettati ovviamente vi risarà fornito un codice supporto ancratore cos'è il codice supporto ancratore con il codice supporto ancratore ragazzi tutti quelli che utilizzeranno il vostro codice nello shop di fortnite vi daranno la possibilità di guadagnare una piccola percentuale su ivbac che gli altri spendono non mi ricordo più o meno quanto dovrebbe essere la percentuale mi sembra il 10 per cento se non sbaglio il 5 per cento e quindi ovviamente potete darlo tranquillamente a tutti i vostri iscritti a tutti i vostri amici o comunque tutte quelle persone che conoscete adesso passiamo alla parte più importante come si fanno i server privati ovviamente ragazzi vi dovete come potete vedere dalla schermata anzi dovete andare nella lobby di fortnite noi ci siamo in questo momento per appunto mettere un server privato bisogna intanto premere la modalità scegliere la modalità a noi desiderata in questo caso per esempio potrebbe essere coppie in questo caso qua in fondo ragazzi come potete vedere c'è un tasto con scritto opzioni personalizzate noi ci clicchiamo una volta aperta questa ulteriore finestra cosa dobbiamo inserirci in questo spazio vuoto benissimo qua ragazzi non dobbiamo inserirci il codice supporto a un creatore che l'epic ci ha inviato via mail ma bensì una password a nostro piacimento come potrebbe essere per esempio la data di oggi ne metto una a caso in questo caso 18 03 1999 in questo caso molto molto easy fate accetta successivamente accetta ancora e adesso ragazzi basta cliccare giochiamo e come potete vedere ragazzi ci metterà in coda attenzione 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 soltanto il creatore in questo caso noi che abbiamo richiesto la appunto chiave ovunque la possibilità di diventare supporto un creator possiamo iniziare la partita mentre agli altri iscritti potete tranquillamente dare la password che abbiamo appunto impostato in precedenza e successivamente quando tutti saranno in coda basta cliccare inizia partita e ci ritroveremo appunto nella mappa di fortnite con tutti i nostri iscritti i nostri amici o comunque tutti quelli che hanno utilizzato la password che noi abbiamo dato a loro detto questo ragazzi spero che questo episodio vi sia piaciuto spero che questo tutorial scusate vi sia piaciuto mi raccomando scrivetemi qua sotto nei commenti se avete qualche problema io cercherò di rispondere a tutti sia qua sotto nei commenti sia su instagram in direct ragazzi non vi preoccupate scrivetemi che io cercherò di rispondere a tutti vi ricordo che descrizione appunto ci sono anche tutti i social vi ricordo anche di lasciare un bel mi piace se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al canale noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video e con una nuova live streaming e qua da matt è tutto bello vi ricordo